Buonasera, benvenuti a contrecampo, ci sticcolò un po' così vediamo più movimenti, riprendibilità, questa velina, non ho trovato solo la velina, ma non c'è. Francesco, fai la velina. Non c'è la velina, avevano trovato solo la velina, la velina non c'è. Vabbè, Francesco, vieni, vieni. Io penso che così possa andare bene.